Amnios Anticamente le elevatrici predicevano il destino del neonato esaminando l'amnios, la membrana che avvolge e protegge l'embrione. Se l'amnios era rossa, annunciava un destino felice. Se era di color piombo, annunciava un destino infelice. Commento. Come i fondi del caffè, l'amnios era il testimone della veggenza. È molto raro che una veggenza così attivata sia reale.